Sempre al lavoro, devo andare al lavoro, ho da fare il lavoro, adesso torno dal lavoro, ho capito, però se tu vuoi cosa voglio io, o no ripeti cosa voglio io, che t'ho chiesto io, io non t'ho chiesto niente bello, che t'ho chiesto io, eh? Solamente un appartamento in centro, attico e superattico, termo autonoma, entrata indipendente, una casetta in Sardegna per fare le vacanze estive, una monovolume per fare la spesa e una carta di credito senza limiti e basta! Ecco che t'ho chiesto, invece t'è sempre con questo lavoro, sempre col lavoro, sempre col lavoro, ho capito, però se vuoi tutta sta roba qualcuno a lavorarci dovrà andare, no? No caro mio, no, è qui che ti sbagli, nella vita non è che tutto si compra col danaro, quella roba che hai detto te, tutta, para, para! Guardami, guardami come sono ridotta, che sono un cencio, il fatto è che tu non t'accorgi più di me, non è vero! Ma come non, non è vero, non ti accorgi, non ti sei neanche accorto che mi sono tagliato i capelli di un millimetro e mezzo! Ho capito, e allora cosa vuole una donna? Amore, ti dice niente questa parola? Amore? Amore? Io non voglio un amore andante, un amore purchessia, io voglio un amore imperituro, un amore guado, un amore che è amore quando amore dà, allora amore fa, capito? Grazie! Grazie! Grazie!